... Attenzione al Piacenza con Corini, il lungo rilancio di Corini che Ferrara doma molto bene. Vedi che belli questi lanci di Corini, sapiente, queste cose bisogna dargli atti, manca in altre... Attenzione, il tuo amico Conte, una grande accelerazione sulla trequarta in posizione centrale, quindi Ravanelli affrontato da Mirko Conte, ancora per Di Livio, grande azione della Juventus e c'è un fallo di Corini. Non cattivo ma da munizione perché ha impedito, di fatti, giusto l'interpretazione di Farina. Questo è un fallo voluto, fallo intenzionale, non cattivo, non fai male all'avversario ma gli impedisci proprio di giocare. Grande duetto comunque quello fra Ravanelli e Di Livio. Stupenda questa azione, stupenda velocità. Mentre vedete il calcio di posizione che sta per essere battuto in questo momento da Jugovic. La salio a due metri. Si affolla di nuovo l'area di rigore, vediamo Conte, Ferrara, Viali, Ravanelli il cross, l'uscita da parte di Taibi, poi arriva ancora Del Piero, un altro cross, Ravanelli tocca indietro, Ferrara e grandissimo gol. Gol strepitoso di Ciro Ferrara. Che cosa stupenda, ma è stata bella tutta l'azione, Del Piero rimesso al centro sul secondo palo dove spottava Ravanelli. Ravanelli di testa, con molta intelligenza tattica, di gioco vorrei dire, ha piazzato proprio la palla in mezzo all'area piccola e il gesto atletico di Ferrara superbo, grandissimo gol di Ferrara. Grandissimo gol di Ferrara, bravo Ravanelli. Bisogna dire che i protagonisti di quello scherzo esilarante, di scherzi a parte, che tutti ricorderanno, Ferrara, complice che fece...